bella a tutti i free readers e bentornati a questo appuntamento con spliff break oggi siamo qua a spiegare quanto accaduto in francia in questi giorni quanto sta accadendo in francia in queste ore perché da diversi mesi avevamo già riportato anche settimana scorsa poi settimana l'altra che appunto da diversi mesi in francia si stava lavorando su un progetto di regolamentazione della cannabis oggi però si è stati più chiari su quanto è questo progetto che ovviamente è una situazione in divenire in realtà questo progetto non è ancora una proposta di legge ma è semplicemente un parere delle commissioni che è stato sviluppato e sottoscritto ieri dai deputati e quindi dai parlamentari francesi che l'hanno depositato ufficialmente nel parlamento e ora c'è questo indirizzo del parlamento c'è questa analisi che è stata depositata con l'indirizzo politico fornito da oltre 250.000 cittadini francesi che sono espressi indirizzando i loro politici verso una regolamentazione controllata della cannabis si sono espressi insomma sulle varie tematiche se reputassero questa legge che è in vigore in francia molto repressiva attuale insomma utile o meno alla società e hanno rifiutato fortemente questa situazione proponendo i cittadini una grande maggioranza oltre 83 per cento su 250.000 che hanno partecipato una regolamentazione controllata con negozi pubblici con lo stato che controlla tramite le cenze con una regolamentazione magari di monopolio ancora tutto in divenire come verrà formata la proposta ma l'indirizzo è questo la cittadinanza francese in grande maggioranza si è posta verso una regolamentazione della cannabis contestando criticando le politiche proibizioniste attuali e questo è stato recepito dai parlamentari dopo 18 mesi di varie audizioni e dopo che da gennaio era stato lanciato questo test nazionale aperto a tutti e allora questo uno dirà cosa cambia in francia è diventato legale assolutamente no si tratta dell'inizio di una discussione ancora molto ambigua molti parlamentari ricordano che è difficile ad oggi avere una maggioranza in francia per aprire una discussione per depositare una proposta di legge chiara che ancora va fatto come procedimento e quindi è complesso anche avere i parlamentari poi per votare questa proposta ma sicuramente questo approccio è stato rilanciato adesso in attesa delle elezioni nazionali dell'eliseo che saranno nel 2022 e allora cambiando il capo di stato sicuramente una tematica importante a livello nazionale sarà la posizione sull'eventuale regolamentazione ma adesso non è in corso alcun tipo di procedimento legislativo in francia per cambiare la situazione e non lo sarà per almeno un altro anno e mezzo ricordiamo questo è importante va detto non per tanto così disilludere le persone ma proprio per informare chiaramente come stanno le cose in francia non è diventato legale nulla anzi il piano diciamo del cbd quindi l'ambito industriale è stato molto molto ristretto ha subito delle restrizioni recentemente si sta contestando anche questo e molti politici vorrebbero insomma allineare la normativa con quella europea ma così non è in francia invece sul piano terapeutico esclusivamente terapeutico si sta ampliando la distribuzione ma è ancora molto limitata invece sul piano di regolamentazione totale non è ancora in discussione una proposta di legge non c'è ancora una base di proposta legislativa si sta ancora creando questo e questi sondaggi questi lavori servono proprio per questo ma come abbiamo detto probabilmente avverrà con il cambio di presidenza dell'anno prossimo fateci sapere cosa ne pensate perché sicuramente la francia potrebbe essere uno spunto importante ma di fatto siamo pari e patta con la francia come procedimento legislativo parlamentare e quindi forse è meglio tornare un attimino a concentrarci anche un po su di noi o forse seguire di più quello che sta facendo il portogallo e la germania bella tutti i free readers noi ci vediamo presto con un altro importante aggiornamento sugli stati uniti perché abbiamo ricevuto da degli attivisti un'analisi importante su quanto sta avvenendo nel parlamento federale quindi nel congresso a livello federale negli stati uniti bella free readers fino a libertà